Ok, siamo in diretta, episodio numero, non me lo ricordo, tipo 6. Finalmente, a grande richiesta l'episodio a 4 giocatori, cosa giochiamo? A Mac Breakers, che sarebbe il secondo capitolo di Newman Athlete, che comunque è della Namco del 95, perché gira su una scheda Namco NB, che è una di quelle più avanzate, tipo, cosa ci girava qui, non mi ricordo. Comunque, della Namco, infatti, ci sono dei cameo di alcuni personaggi, vedete il bezel che ho messo, che non so se è questo ufficiale, il bezel sono quelle immagini che erano attorno ai cabinati, che ti spiegavano i tasti, e questa è una figata da fare insieme, vabbè, adesso andiamo a poche chiacchiere e andiamo a vedere, vediamo, non schiccate niente, allora, vedi, questo è il tedesco, questo era l'inglese, questo è il cinese. No, ma non so i nomi, questo è tipo, la presentazione, Seven Strong, Newmans, sono stati raccolti per competere in, ah, in dodici, qual era, mi sono già dimenticato, l'americano, non si era mai visto, adesso io mi metto, vi ricordo che non si, questo è un gioco, sistema, dove è la telecamera? Però, dettaglio, no, intanto c'è la demo, che fa vedere, sistema tra i tasti, no? Sì. Quindi lo stick non si usa, anche se ve l'ho impostato, tra l'altro, è tipo, adesso questo qui, dovete cliccare due tasti destra e sinistra e basta, fino in fondo. Voi ce l'ha fatto, questo potete abbastanza spiegare, oh, super velocità! Eh, guarda che figata, dopo, le animazioni sono fighissime, infatti il gioco è abbastanza avanzato, fa vedere i nomi. Nella versione asiatica, la cinese, quella che voglio prendere io in verità, è giapponese. Cioè, no, il contrario, si chiama Makoto, ma nella versione che giochiamo noi è la versione cinese, non so perché. Cioè, infatti lei ha i colori del Giappone. Ma l'Italia non c'è. No, infatti Merogia. No. Per questo tutte le varie... Ah, questo è figo. Adesso, così ne guardiamo un po' mentre spiego. Vedi, questo è uno alla volta. Cioè, la qualificazione per passare il record mondiale sarebbe. Quello lì, HH e World Reco. Poi vedi, Tang lì devi schiacciare, poi devi schiacciare... L'American. Johnny Sun, se è grande. Schiacciare per sfoggiare la bandiera. E vabbè, ognuno dopo ha il suo coso diverso. Ma tu sai con il Lorde. E no, ma tu. Mi piace, mi piace, mi piace. Ricordiamo, salutiamo gli SP360, i nostri amici. Sì, sì, stai dando. Rapid Jump, Rock Bar. E che volevo dire? Che praticamente, non mi ricordo. No, possiamo giocare? No, non dovete toccarci. Adesso sceglieremo il personaggio con destra e sinistra. Guarda, io metto i crediti per tutti. Molti, molti. Soldi, soldi. Tanti, tanti. No, no, è massimo. Però dopo, se perdete, perdete solo se non venite qualificati. Ma va bene lo stesso perché basta che rischiacciate e state e se riprendete lo stesso pupetto con il tasto, penso, centrale. Va bene. Vai, io, sì, vediamo. Premete Start, entriamo. E scegliete con destra e sinistra. Io prendo Xiaoye, se me la volete lasciar, sennò come... Qualcuno non è entrato, Start. Io ci sono, sono tre. Dario con Start. Start colè. Questo. Ah, Start colè. Dario, dai. Io sono inglese, allora. Io pensavo che ci siamo. A me le frecce non mi vanno. No, non devi usare le frecce. Aspetta, abbiamo cinque secondi, ti dicevo. Non si usano con verde e rosso, esatto. E quello centrale con fermi, si usano solo tre tasti. Perché c'è la pubblicità in questo momento? Come diciamo? Cinque secondi. No, cinque secondi è il tempo che ho preso. No, infatti, 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 aspetta, aspetta un attimo. Che vuoi, infatti, che vogliamo via? Io prendo, allora, decidiamo, abbiamo cinque secondi. Io prendo Xiaoyen, che in questa versione è cinese, sennò sarebbe Makoto nella versione originale, non so per chi. Io sono Sofì. Eh, Sofì l'inglese, dopo c'è Rui. Dai, da te prende me, Rui One. Io prendo, esatto, io prendo l'overpower. Io prendo l'overpower. Io non lo so chi prende. L'overpower, perché nel titoletto era overpower. Oppure vuoi far vedere qualcuno in particolare? No, no, sono tutti belli. Il tedesco, il tedesco è in cazzo anche col baffo. E io prendo l'overpower. A cinque secondi per aggiungere il baffo. Anche lui è figo, vabbè, tutti fighi, so, vado. Pronti? Vai, vai. Memorizzate dove siete. Sì. Oh no, mi lascia la skin blue del xiaoye? No, scherzo, vado eh. Pronti, cinque secondi. Cinque, quattro, tre. Oh, è il giù? Due. Non c'è giù. No, ma che giù? Vado. Vai, 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 vai. Ah, posto. Ma, ma, devi cliccare, però, seleziona, seleziona. No, no, vabbè, uguale. Ah, posto. Vabbè, io ho la skin blue. Ah, ma quella è più overpower. Perché ci sono le statistiche, perché ogni disciplina... Pensavo che era... Capito? C'erano le stat, power e speed. Ogni disciplina... Ok. E, infatti, volevo... Non ce l'aveva un altro arcade stick. Voi dovete... Tatatatatata. Ma io so scarso. Infatti, il bello è che chi vince, vince, non me ne frega nè che devo vincere io perché volevo il visits. Io dovevo vincere, certo? Qualifica, no. No. Try one time. Ah, tutti insieme. Dopo ti do ilnościban. Va bene. No, dai, ho qualcosa. Dai, o che è il... Non si può fare body shame, no, scherzo. Ah, porca miseria! Oh, oh, mi piace! sii no so terzo cosa si e ma con questo è più facile più lei è la più veloce cioè tipo veloce tipo magari voi mi surclassate a bellissime stelle animazioni io ero come so arrivare io so secondo secondo io so quarto e io pensavo di essere dietrissimo che schifo no le animazioni sono fighia mi piace un po' ma vero che mi so chi perché di speed c'è molto poco esatto però infatti questo non ho mai capito come equilibri la mia è la più veloce tipo nelle cos'è o? è random ah uno deve scegliere il match tira il mostro almeno voi no questa è una cazza guarda voi dovete cliccare sempre al massimo possibile al massimo possibile e poi al centrale no no al centrale mai ah ok 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 e se fate troppo ovviamente perdete di poco e chi tocca all'inizio io sono scarso in questo poi sono emozionato è emozionato è piccolina come fatti come direbbe vedi c'è ho sbagliato ma questi diversi è il mostro o la signorina non capisco cioè tiri il mostro a chi spreca una città è molto dispendiosa a livello di inizia civile cioè ok poi visto se ne fai due te ne fa due di fila in più io sono qualificato sì 107 per 7 metri adesso tocca al tedesco eh tedesco guarda è grosso quanto il mostro dai vai e va che difficile di fare proprio attenzione tedesco ok perché parte su esatto ma conviene fare meno comunque c'è due tentativi e qualificazione cento bellissimo sei stato avido perché sennò volevo provare esatto però sì e non è facile anche la prima volta cioè non è che mi sono preparato forcare maserano non è non mai veloce vHS eh very good eh ah 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 ha oh qualifichi oh ma hai superato ho capito alla fine ho capito Ma quella è il topo, c'era scritto in giro, c'era il topo, non l'avevo capito che era così, questo è il cinese, è l'overpower, questo è fisico al 100, qual è il fisico perfetto, 102, perché quando va veloce, dopo tieni quella velocità, ma chissà cosa dipende qua la forza, non l'ho mai capito, c'è nel senso perché voi doveste essere più avvantaggiati? No, io forza c'avevo pochissimo, no, non ho qualificato per tutti, no, adesso c'è il secondo round per tutti, che schifo, ma non ho qualificato perché? Perché devi fare 100 metri, almeno 100 metri qualissimo, ok, eh, 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 eh. Se la vostra doppietta sembra un maschio che imita una femmina. Oh, smash! Però te vale quell'altro. Sì, infatti questo non ci sono riuscito, incredibile. Sì, mi vale quello maggiore che puoi fare. Attenzione, la Germania, guarda come parte, la Germania è carichissima, vuole riprendersi. Guarda il tedesco che deve fare Armstrong. No, sì, è vero. No, non c'è più. Oh, no, no, no. No, che puoi ti viene, clicca l'altro braccio. Dai, 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 dai. Guarda, è difficile capire quando parte l'altro braccio. Dai, 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 dai. No, per due metri. Per due metri. E questa c'ha segale. La Deve, faccio vedere l'Inghilterra. Questo è impossibile. È UK. Vuole fare il record mondiale. Perca miseria. Niente, no, ma se... Eh, sì. Fortissimo. Dai, ecco il mondiale. Eh, no, mi sono suonato. Eeeh. 150 metri. Viva l'Inghilterra, viva la regina. Non c'è più. Ah, no, è vero. Il ricordo della regina. Chissà che regina c'è a quel tempo. Infatti c'è un anno. Attenzione. Oh, carichissimo. Rui Han. Guarda, guarda il cinese com'è carico adesso. Porca merda. Dai, dai, dai. Dai, 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 qualificato. Guarda che... No. Oh, supera l'Inghilterra. L'hai superata. Oh, ecco, quasi recordando. Quasi recordando. Guarda, mamma mia. Messer sì. Yeah. Sarà meglio, bastardo. Aspetta. Start, il secondo player. Premi, prima start. Scegli lui col tasto centrale sopra. Sì, guarda. Col tasto, no, no. Blu, blu, blu. Io so, perché te primo, Montezio? Ah, perché su tutto, eh. Su tutto, lo sfido. Io pagare, questa è la nuova disciplina del futuro, c'è il premium, quindi se paghi puoi continuare le Olimpiadi. No, il quarto deve scegliere. Clicca. Ah, ok. Cos'è? Lo so. Ah, questo ho capito. Ice crusher. Questo è simpatico. Un blocco di ghiaccio. Esatto. Ricordiamo. Sempre. E poi, è come correre, però alla fine dobbiamo anche spaccare il ghiaccio. Ah, ok. Questa è la disciplina del grande cacciante. Questo è uno per volta, anche questo? Non so. Non mi ricordo. Sono messi. 20 pezzi di ghiaccio. Ah, 20. Ah, no, 2 a 2. 2 a 2. Che siano? 1 e 2. Ah, ok. Ecco sbattuto. Oh, ma è difficile. Nice. Oh, io non riesco mai a cliccare. Oh, oh. Mi sa che come è andata più piano. Ma non ho capito se devi rompere i ghiacci. Ma quale tasto è lo scherzo? Quello centrale. Ma non l'hai letto il tutorial? Perché premivi quello sotto? L'unico che... Quello scherzo. E io lo messi a fuori. E adesso è tutta un'altra storia. Vabbè, adesso ci sono loro due. Guarda come so figli. Comunque anche quello era tempismo. Perché il ghiaccio arriva sempre lo stesso... Ma che fanno? Porca verda. Dai, dai. E' vista la vera. Che cos'è? No. Oh, bravi. Oh, è incredibile. No, corso piano. Nessuno qualificato. Mettiamo due crediti sulla sfiducia. No. Ah, perché... Però se nessuno è qualificato, dai, faccio passare. Ah, no, tutti. Allora, tutti premiamo start e quello centrale. E poi riprendiamo lo stesso pupetto con quello centrale. Certo. Io ti mando un blocco di ghiaccio. Ah, no, adesso tutti possiamo scegliere questo. Il gol will be easier. Cioè, sarebbe... Perché siamo stati scazzoni. Ci farà tipo 15. Spera. Tieni fatti 18. Sì, ma proprio perché correvo male una certa. Volete rivedere? No, 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 vada, vada, siamo fortissimi ormai. Il signor Cacciani... 17, oh. Non devo capire il modo che metterli dietami io. Eh, esatto. Eh, so, dopo vi spiego, ho tentato di settarli in una certa maniera, non quello è il meglio che ho potuto fare. Eh, no, va bene, va bene. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Attenzione. No. Bonk, bonk. Nice, nice, nice. C'è, great. Bonk. Dai, uno, monte. Vai, monte c'è. Dai, ci siete, ci siete entrambo. Oh, pari? Pari, oh. Infatti lei ha questi ventagli, però non so che... Basta non concentrati troppo sulla corsa. Esatto, devi fare ta-ta-ta. È un gioco di ritmo. Due tambuellate e un colpo. Due tambue... Bam. Ecco, subito. Basta. Carca miseria. Comunque questo a me diverte. Se in quattro mi sto divertendo parecchio, devo dire. No. No, non ho visto che se qualcuno stava scrivendo. L'ho presa come una partita domenica. Stava diventando il sabato. No, 18. Scarcio, scarcio. Ah, fuori. Eh, perché è scomodino, ma non ci sta. Fuori, fuori. Eh, ci sta, Dario, mi dispiace. Magari il prossimo anno fa morire. Paga la punizione di impionica superumani. Ah, in tedesco. Dario fa il start e poi il triangolo. In tedesco è primo. Non so se qualcuno stava seguendo. In tedesco è un'altra parte. No, no. E adesso questo? Ah, salto! E' quello lì che devi... Adesso c'è da leggere il tutorial che io non mi ricordo, sinceramente. Ah, oddio. Questo è sempre così. Cioè la gouge e poi al culmine, quello centrale. E poi quello... E rispoggiare la bandiera. Esatto, ma quello te la fai in automatico e poi rischiacciare. Ok. Questa non mi piace tanto perché sembra uguale alle altre. Invece... Ah, tocca a me. Vado signorina Cina. Ah, questo è Pacco. Cioè la città è Pacco. Ah, so proprio inchioppato. Ma quando devo saltare? No, no. No, è un po' chiuschietto. Montesi, chi è scherzo? Chi è? Oh, se ero un po' il chiuschietto io. Non ho capito, sinceramente. Eh, no, è prima, mi sa. Eh, io ho fatto... No! Ah, non basta. C'è l'angolo... L'angolo macchinette. Eh, che volevo fermarmi. Oh, questo gioco mi fa a sudare. Ma io come volo, c'ho la pancia. Ma secondo me diventa indirigibile. Eh, può essere. Come Kirby. Ma la gauge. No, perché voi saltate prima. Eh, però... Eh, però... Eh, però... Eh, tocco è, tocco è, appagato. Sì, però se salte prima, vedi. Ho saltato troppo presto. Io ho saltato troppo. Ma io oserò... Eh, ma stracca è come più meglio che vedete. Vai, vai, è il tuo momento. Sì. Ah, ma in realtà quelli sono pettorali. Sì. Gara. Ma a cazzo sale lenti... Vai. Oh, oh. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Oh, è il momento di planare. Attenzione, dai. Perché hai aperto le alito appuntati. Poi è qualificato. Qualificato. No, è vero, in verità. È poco, per 40 metri. Ma quant'è? No. Vabbè, vabbè. Non è facile. Eh, lo so. Non è facile. Non è facile. Perché bisogna saltare... Ma quando saltate. Eh, molto prima abbiamo fatto. Infatti è quello che te penalizza. Devi essere più vicino. E invece più potenza. La farfalla giapponese. Trema tutto. Attenzione, attenzione. No, non ce la fa oggi. Eh, perché saltammo... Cioè, secondo me dovremmo saltare appunto per l'ultimo. Eh, ma l'ultimo è infatti molto più vicino. Però è rischioso perché... Ma secondo me, dopo il Go, c'è un cartello con scritto Go, provate a saltare lì. Eh, sì, anche. Ma questo braccio è un po' teso nella maniera errata? No, vada che... Oh, ecco, ho 92% jump. No, dai, questo è buono. Ok, questo è buono, questo è buono. Questo ce la fa, ce la fa. Il tedesco ce la fa. No, ma com'è possibile? Ah, 4,90. Madonna. Eh, sì, 4,90 è impossibile. Ma perché questo dovevi proprio sbagliare. Eh, secondo me conta un sacco il tempismo del salvo. C'è, ma... Eh. Ah, c'è la... Valkyrie Lodensez sul dirigibile. Oh, bello. Oh, questo è... Eh, non c'è poco potenza. Ma la gouge, porco 2. No, no, dai, ce la fa. Vai fuori anche la città, vedi? Dopo... Eh, super inglese. Ciò che vuol dire, è tipo una certa... Ciò che l'hai sbaggato. Eh, ma il salto, vedi? È quanto... È il momento in cui salti. Dario, se mi provi a fregare, ma raro. Perché non fanno tipo un altro di questi? Questo è bello. Salta! Vai, 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 provi... Ah, ok. Ah, sai cos'è? Eh. Mi sei reso conto adesso? Guarda quanti ne ha fatti. Dario mi ha superato di nuovo, ma stufato. Ah, no, ho vinto io. Vai, vai. Doi! C'è, non... Io dopo... Ci ho messo... Non ho cliccato subito questi per aprir me. Ma ci metto che dite un attimo. C'è un po' di... Allora, io riprendo questo. Pago la commissione oligionica. Oh, sono primo! Undici punti! Basta! Adesso, adesso terzo giorno, quale discipline ci sono? Eh, quanta c'è? Ma ce le fa fra tutte, no? Tanto dura pochissimo. Il 3 chi è? Io me lo so. Ok, questo è una cazzata. Future game! È quello che appare in universali e dobbiamo sparargli. Vedi, se appare questo, premete quello a destra. Ah, ok. Se premere... Ma è notte energetica? Sì, io sì. E che cosa faccio invece? Io sono inglese. Eh, non so, ognuno c'è... Ti allunghi la panza, sicuro. Ah, non bisogna sparare le ballerine o chi è. Marilyn! Sicuro spara subito. Sicuro spara subito. Va dopo. Spero che... Sta a vedere. Vabbè, questo è tutto insieme. Perché dovemo... Cioè, quindi chi spara prima, di fatto? Sì, sì. Ah, ok. Go! No, che hai fatto? No! Ho sparato a Marilyn Monroe. Anch'io. No, anch'io. Non ho sbagliato proprio. No, ho sparato a Marilyn. Perché meno 3.000, ma... Ah, ma ti è... Basta che... Orca matta. No, hai fatto... Ma cosa fai? Fa 18.000. Hai fatto 0 punti, no certo. Ho fatto meno 3.000. Beh, ma perché se non c'è chi ha... Allora, tutti di solito. State, poi c'è... Si può rifare... Si può rifare... Si, si, si. Scarzissimo. Si può rifare commissione. Commissione, la prego. No, questo magari lo fa... Ah, tocca rifare. No, no, vai, vai, vai. No, in particolare, cioè, devi schiacciare preciso e basta. Devi schiacciare preciso e basta. Cioè, non puoi smanettare. Se smanetti... Ah, no, certo. Se no, e poi... No, 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 no. No, in particolare, cioè, comunque... Spari al vuoto, mi sa. Ah, sì, sì. Sì, esatto. Cioè, se spari appena spari il doppio... 16.000, dai. Abbiamo fatto la metà di più. Abbiamo fatto 8. Vabbè, no, ma adesso conosciamo bene. Ce lo farà schippasto se lo perdiamo, sì, dai. Spero. La commissione mentira che fa. Ah, vedi, sbagliato. Ma perché te, tra l'altro, non c'era nessun negativo? Eh, ma io ho sparato al centro. Ah, perché si sbaglia anche al centro. E perfetti, basta che... Basta che sbagli. Ah, certo, certo. Pensavo solo le ballerine ti facevano calare il punteggio. Sì, infatti, vi sto sudando. Mamma mia. 13.000. Ma dai, nessuno. 15.6.3. Ma scusa, ma com'è possibile? Cioè, sì. Ehm... Vabbè, il solito centrale... Commissione. Commissione, no, troppo difficile. Eh... Sto giro, infatti, tutti bene o male... Eh, sì, abbastanza... Siamo tutti lì, però... Quello è ancora più easy. Fanno blocca al miss... Hanno... No, ancora, no, basta, ti prego. Basta, ti prego. Adesso sarà 14, dai. Ma no, ma penso che forse c'è un minimo... Dai, spero ce la faccio. Ah, sì, no, cala sempre. Cala sempre. Bene o male, grazie. Prima o poi gliela fai, della serie. Sì, sai, tutti i gettoni... Pensa che dovevamo pagare per giocare. Sì, infatti. E faccio la came... Go. Eeeh, scalzo. Però comunque le da tutti il punteggio, anche se... Eh, venga dalla... Eh, sì, sì. Nooo... Nooo... Nooo, ho sbarato. Qualcuno si sta qualificando. Nooo... Sì! Oh, no. Elterra! Dai, vai... Di quella si porta avanti. Io penso... Andiamo a Berlino, Beppe. Io penso... ho perso i montesi qua ci sono cose strane a tutti dobbiamo riprendere giusto commissione scarsi ha pagato ha pagato 17 io ho pagato io avevo fatto questo vabbè vabbè dai un'altra roba ti prego no calmissime da qui in poi per me ah questo è una figata questo è un casino a sinistra e a sinistra e poi spari con il centrale un tipico gioco delle olimpiadi si si ovvio e poi spari la verità è veloce adesso te lo spiegavo ah mica è tipo io pensavo ah così bene sai con destra e sinistra smogli a scatti oppure con tutti i notti con noi te lo dico adesso lo scopriamo adesso non lo sappiamo ah si a slot a qualsiasi vedi ci sono attento monte oh 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 a me subito così ho sbagliato perfetto ma a volte così già perché io in verità volevo lo sparo è centrale infatti lì è scomodo come potete mettere le dita io volevo metterlo sui grilletti ci ho pensato e posso sparare a casa ah magari nooo no dai questo si fa ma hai toccato attento si si toccato attento guarda come mi sono sottodabili niente niente tranquillamente a zetta qui super romani in realtà eh esatto basta ma lei si è copale la doppiatrice di michelle di tecne infatti l'anno è quello può essere senti c'è di tecne 2 oh dai c'è uno con le bestie in seguito dalle bestie si che lo aprono solo per fare l'alimpiadi mamma mia l'alimpiadi nooo non so comunque cosa stava ma li fai 3.000 ma li fai 3.000 ma li fai 3.000 ma li fai 3.000 ma hai fatto 3.000 per 2004 ma però com'è possibile se vedi che non devi cioè prima li spari lontano e più punti te dà vedi se vedi qui sono stato troppo vicino nooo troppo eh questo è tosta nooo già fallito così tosta ah secondo dry c'è vabbè si si c'è tutti i secondi fai sparare subito questo è importante si vedi più gli spari di kayak che è lontani e più punti fai noi l'ho preso ah masticato via che è un po' giù via la la però vedi ho fatto 2.000 un po' perché anche te li fai perché non t'ha eh forse l'ho fatti troppo dai le spari io però ah no no eh bello le spari attento dai spara ah ok potevo anche muovere la mano l'ha preso si si ma te puoi muovere come te pare ma il fatto che ti ti pensavo che lo sparare mi bloccava no no invece no cioè è abbastanza fluido si no infatti quello si guarda che poi è è a lane cioè a corsia che sennò era a macello cioè più che altro era scomodo perché si fosse con destra e sinistra normali esatto devi solo anche qui tutto a ritmo destra sparo destra sparo sinistra sparo nooo era a 3.7 commissione si commissione poi sarai forse la cima ci salva dai salvaci dai vai spara subito vai vai sparo subito anche da laggiù si si oh vai vai sparo no dai non gliela destra sparo dai vai 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 no è niente no è che scarzone ma chi prema ma non spara cioè mentre ti sposti no allora centrale capi meglio come signor commissione la prego ah questo ce l'ha ah no pensavo rifammo subito questo eh si fatti si 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 no questo lo faccio adesso vabbè schippiamo sappiamo signor montesi la prego vediamo nella prima fila si si io qua noi due io qua zero eh lo so no a posto ci ho fatta si 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 a posto e a posto saresti anche qualificato però perché muori dopo no però qualcuno è arrivato in fondo io se vedi che ho sparato male ma ha tolto i punti per la per la precisione ah quindi deve essere anche un gioco di precisione bello no mi avevo messo male le dita no se vi posso consigliare tipo non dovete avevi fuga che ti arrivano fare destra sparo destra destra sparo capito è un gioco tipo di no qualcuno stava ridendo ciao salva salva si 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 vedi perché c'hai 92% e ti ha abbassato il tonteggio ha tolto un po' ah per zero hai fatto un singolo sparo che ha saltato cioè ti fa la moltiplicazione negativa esatto a me ti cala si perché è zero ecco dare ha perso dai manz la manz guarda come è morbidoso no ma di già ancora perché ah perché vabbè lo cerco di farlo però forza vuol dire oh no ho sbagliato non è che me l'ha preso ho fatto troppo veloce nooo bastardo nooo signorina la prego l'avevo fatto più di prima no vabbè comunque sono qualificato allora che è arrivata la sua qualificazione spero mi sia bene ma secondo me quello di pelle mio comunque si muovono più lenti può essere si 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 ma si fatti ah può essere perché noi c'è ma la velocità al massimo cioè voi due perché si vede che è molto più fluido ma voi siete più avvantaggiati cioè i nostri si muovono proprio cioè io per quello che ogni volta mi incarto perché mi vado proprio lento nella ghiera se i pubbetti nostri potessero scendere e menarli allora vinceremo infatti qua con che vantaggio forse dici io prendo un personaggio sono avvantaggiato in alcune discipline tipo io lo vedo io cioè con lo mio di pelle molto più si si è vero non ci ho fatto caso bello cioè bello nel senso dopo magari voi siete più forti nelle altre tipo non so noi siamo più forti nelle cose 100% oh ma qua è world record ah ti dai il bonus world record mi sa che faceva un'animazione strana no no dai ha fatto world record forse alla fine si qui io si perché ancora non me l'ha segnato dai world record con il cinese vuol dire che sei fortissimo dai dai credi in te stesso lo vedi dai comunque scatta bene infatti si dario che non è buono guarda quanti spari a caso che fai dai ti togli tutti i punti non me ne frego non me ne frego non me ne frego deve sopravvivere lo sbagliato lo sbagliato dai per un secondo quello è l'ultimo mostro dai vedete manco arrivare la fine vediamo ecco world record eeeh ma non parli ma lento appunto metti boom come come beam vabbè ah vabbè bravo sai già come scrivere perfetto noi rientriamo sopra il ciglio commissione no solo voi dovete continuare commissione no perchè ci accadeva il tempo noi pensavamo un altro roba un altro roba voglio fermare il missile sicuramente fermare il missile fermare il missile fermare il missile è bello no chi tocca scegliere oltre oltre a me ecco fermare il missile bombs away salvare la terra guarda la disciplina allora questa non l'ho mai no avete capito no eh manco io perchè watch the angle ah devi prendere l'angolazione giusta dai cattolite sta attenti ah devo un tesi no devi prendere quello centrale per chiacciarlo no per l'angolazione dove lanciarlo mi sa no il primo testo no vabbè bellissimo te lo tirano da un altro continuo ah no no ho sbagliato no al final oh bello finisci alla cioè io ho capito che il primo testo non è quello centrale no non lo so non ho capito mi pare così si si eh no perchè i colori mi sa che no il colore è quando si avvicina a lui eh basta forse è il momento giusto forse te ne hai premuto no no non ce ne ho capito un cazzo forse te ne hai premuto no no perché c'era la no quello te lo prende da solo io la prima volta l'ho fatto ok dovrebbe essere tasto centrale e poi dopo smanetti per il corso eh si vai 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 la salveremo alla terra no no comunque vale a me ci vuole no ci vuole il doppio perché dopo c'è il second try qua no mi sa un artico un artico l'angolazione sai cos'è mi sa che tu devi aspettare che lei lo prende sale appena devi cliccare centrale vai prendi centrale lo premi vabbè ma il tempismo giusto ho fatto ho premuto quando è arrivato lì ma 3 2 1 vabbè non lo so cioè non lo so no mi sa che quando l'immagine arriva sul pupino eh ma io l'ho premuto esattamente quando era nel comparto puoi di l'immagine certo e quando l'hai premuto io l'ho premuto non lo lanci montesi non lo lanci vero madondro eeeh l'hai lanciato no allora l'arcipelago lo superiato il cani dai 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 sì sì ma c'è una città no la città infatti c'è la stacchicca bellissima che bombarda capito no è bello questo mi piace l'antiaerea ucraina fatemi capire quando preme il pulsante quando arriva cioè sì però boh boh io appena ho visto il misilo io è uguale prima ma neanche io l'ho premuto però si è spesso perché sta sbaggando lì no boh chissà sbaggato fallito boh lì ti fa solo vedere però vedi adesso ti hai fatto una angolazione non hai spettato l'ho tenuto troppo poco invece lo devi tenere un po' mi sa che devi tenere un po' mi sa che devi tenerlo premuto un po' no no non devi tenere un po' lei lo raccoglie e si alza finché te non comincia a smanettare quindi io ho aspettato che era a metà e così ho smanettato ma ho capito che devi aspettare capito di aspettare un po' sì se riusciamo a piallo manco a piallo concentrazione tanto l'ho premuto ma non è proprio tu se scarci oh c'è un sacco di gente ciao stiamo giocando Newman Athletics 2 dove posso essere forte commissione commissione questa puntata di Stata al Mamma è quattro giocatori sei di nuovo primo non vale prima ero io primo adesso questo qui con la macchina non mi ricordo ma è uguale a quello dello skateboard super stunt vabbè sempre quick tap questo per stare in macchina ah ma è la cavallina avete schippato? no poi è finito proprio così ok ok e chi è? la cavallina e cavallina e poi quando devo saltare no solo io le ci so la tempo di no e anche una sega circolare oh quasi world record mamma mia 25 spin guarda quello è rocchettare lui è grande non sai che se sbagli lo schianti adesso lo vediamo subito mi tocca a Dario quando sto a camminare mentre mi c'è spianca dai c'è la freccetta guarda ma dove? ah no ah no lui ti non corre lo trovo una posizione comoda eh quando c'erano queste cose sì eh perché se c'erano l'usb lo attaccavo il pandora che funge da arcade stick eh come anche sul come vi pare? state tipo così vai vai no ti calterò troppo tardi ma sai cos'è conviene questa è una cosa connotata quando lo provavo si diverte conviene essere meno avidi si e saltare perché tanto se lo lasci un minuto prima non è che ti cala così tanto la velocità guarda questo ma lui ti corre in contro vai 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 dai quindicissimo eh ma così lentissimo cavolo smanetto eh più di qui tanto io vado lento purtroppo mi cazzo smanetto e quella è la tier list di sto gioco ok sicuro sicuro non è il mio personale ma è troppo forte eh conta che Monte è andato a 218 km Ther è andato a 50 oh wonder record franciso ma me lo da te tipo eri arrivato a 140 capito quindi la velocità era completamente bassa adesso provo accorgiamo oh salutiamo la rassa che si è iscritto al canale grande la rassa grande attenzione sbaretta attenzione la rassa non so se niente qua siamo a un'estate al mame che è il format estivo dove giochiamo appunto al mame oggi è puntata a 4 giocatori e sto sudando infatti dopo andiamo a mame eddy guerrero ciao a tutti ciao eddy ciao infatti immaginavo che la rassa vai dai l'inghilterra non gli piace saltare pace all'anima sua io arrivo io arrivo a 30 spin ma manco ma come dai dai se sei forte arrivo a 30 spin con lui cioè dovresti essere aerodinamico con quella panza vai bellissimo dai ma non ti ho faticato ma non ti ho faticato come la bestia a 13 spin ma mica si è papà no infatti in sto gioco è un primo po' cazzo però ho capito ora silenzio no voglio vedere ah c'è l'idea ecco è bello ma io è Montesi posso scrivere il nome yeah sailor moon ma c'è un po' le c'è le chiappette di fuori Montesi dopo la m c'è la n voi dovete rientrare in gioco commissione commissione c'è un po' guarda quanti punti monti non lo ripiamo più ah perché c'è io sto seguendo perché quando quando poi ripeto perché io quando streammo non ci capisco niente nel senso questo è un casino cioè tu ti sei un casino ah tocca a me capominato rapid jump no un altro salto a posto ma di che corta salta guarda questo è il fatto giochiamo che c'è la lava esatto allora floris ah no solo centrale tempismo dana sì 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 stavo a vedere sì sì lava subito lava subito però vedi timing is the key perché se te dopo vai troppo sprofondano questi non è che questa eh no cosa pensavate che era una gita guarda quelli con la tutta eh con la tuttina noi siamo newman noi siamo forti giustamente ma devo saltare io? sì c'è l'energia ah perché non ti fanno ah ok vabbè ma ma non capisco se la sto facendo giusto eh forse devi tenere più se tieni premuto di più aaaaa ah più si sprofonda più dopo più quando clicchi dopo ti fa eeeh eeeh e ho finito record scusa ma guarda che ho da trentici c'è meno di sei secondi e adesso no sì sì no perché sui secondi esatto ah ok ah ah sono stato in gore oh c'è pure una bestia eeeh c'è tartaroga di fiamma troppo farsi in realtà noi non siamo sempre gli stessi veniamo clonati e quindi una volta se ne è uno nuovo queste cospirazioni esatto del gioco no ma sai cos'è perché io sono pesante si affonda eh sì io ho tutto sì sì è tutto così è tutto farloco ce l'hai capito era come appoggi cioè io boh dai cittì dai clicca dai dai se non salti sì oh fallo ah 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 prima che affondavo dai è vero però di vista cioè eh ma perché perché la c'è io ho capito ma esatto ma è un tempismo parecchio è un ritmo in game sì sì ma tanto una certa tanto dovrò aspettare quella frazione che si abbassa un po' una volta una volta una volta no sai cosa no no io sa che devi vedi che gli fa l'aura ecco io adesso ho sbagliato però appena c'è lo sprite della pedana svanisce clicchi e fa quello con l'aura che è il più forte ecco questo eh anche così è buono ok sono stato ingordo no perché una certa ti porta però come si fa a fare 13 secondi cioè i VDK tutti perfetti in tre salti c'errivi tipo perché da noi vedi scende forse più lentamente la pedana non lo so no può essere non lo so commissione no dai sì sì ciao qualcuno si è qualificato almeno a nessuno se sancio panza ce la fa no no te ne non guardava a tempismo pensa solo ui eccolo qua perfetto no per 21 decimi di secondi eh questo è lì commissione dai scarzissimo Dario ma dai niente rifamolo ma questo è chi tocca a tutti ma questo è carino una volta che ho fatto bene adesso vedeva di ultimo non ho capito ma schipiamo ho detto tutto il capito dai vada Montesi vada in 13 secondi c'ero fatto no pochissimo perché ne ho fatti molti piccoli prima dai per favore faccio ci facci il favore eh è stato ingordo no ce la facciamo mi sento che ce la facciamo dai dai uno ce la deve fare gli human athletic sta andando parecchio dai dai ce la fai ce la fai ce la fai ce la fai sii no no forse oh uno ce l'ha fatta ma è diventato è diventato un gioco cooperativo per andare avanti che fatica vai Dario vai credi in te stesso vai vai guarda quanto salta in volo oggi Debro si ma infatti do no per poco per poco mancava poco l'ultimo ti mancava l'ultimo salto che è passato hai passato vai Montesi no è difficile è strano vabbè comunque siamo passati beh arriva alla fine almeno no perché io lo facevo tutto a tempo oh che è successo abbanato abbanato la Germania ma perché se la bloccati fuori sono bloccati c'è la Germania Barona coi lì questo giro ha fatto a me mi ruga perché stavo fa bene mi lungato la mazzietta commissione no secondo me ti devi abituarti con il suono si anche attacca fa comodo si poi qua il ritmo non è che accelera o cambia sempre quello vabbè si si ma un gioco ho scoperto a tempi tutto a tempismo no ma cazzo sai chi è primo adesso gioca zitto guardala super inghilterra io perché non ho capito il gioco del missile porca polietta e te li dovevi vinci guarda 29 perché mi sa chi vince prendi i punti del tiad dammi il punci quella roba lì dove si viene questo però è è di ritmo non mi dica no mi dica tocca a correre no vabbè no perché sai beh carichi la potenza voi la potenza la caricate in 2 secondi i personaggi quelli grossi si e poi meno meno al centro tutti insieme mi sa di si che ci sono 4 colori si questo l'avevo visto questa è una faticaccia go go no tutti falliti ma cavolo io che c'ho ah dei falli tutti eh si ma io la stavo la stavo facendo lo stesso cioè io pensavo che il mio caricasse lento io ho dato un calcio quando non era pieno è mai riconosciato non è che caricano tanto veloce comunque io con 2-3 tocchi arrivo a facevo tatatà centrale tatatà centrale ma comunque con l'arcade stick è molto meglio eh devo dire questo vabbè comunque è tanto è quello che passa al convento la prossima volta si fa una roba che spara questo è perché è molto particolare e è bello no me ne mancava tre io faccio tatatà tatatà no e a me mi ha cominciato a fare male le dita non è troppo non so comunque gli eventi quanti sono? la missione niente adesso c'è nuota adesso andiamo a nuotare comunque mi sa che dopo ce l'è finito cioè la prova finale mi sa non è che l'ho giocato ok a tempismo non ho capito ah no smanettare dice no no a tempismo devi tenere premuto l'acido ah time you're ok no non dite no e quando l'ossigeno fa aaaaaaah e poi dite è perché lui il giamaicano è super mutatore e poi torni giù perché ah se torni capito devi calcolare l'ossigeno perché se non schiappi male è difficile se lo facciamo come 600G faremo come Titanic no si si puoi dite no tutti insieme si uff uff io non vado giù di più ma questo mi piace mi fa paura quando morimo tutti oh perché non torna su infatti anche a me non mi piace e dovete continuare a smanire no moro dai no non morì non morì non morì non morì non morì no morimo tutti no 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 nooo per 30 metri e io guardavo io ho detto intanto il ritorno è più veloce ho detto vado un poco più della metà e non voglio rischiare ma io qualificarmi non c'è io l'ho arrivato se arrivo a quella profondità lì dopo non gliela fuori cazzo sei grosso cioè quello è il problema io non ho capito il tempismo e ognuno è diverso guarda il mio è velocissimo anche il mio dopo che ha dato la sbracciata capito dai dai no ho sbagliato un po' ah ma c'è un minimo con il rivale perché se no non può risalire prima ripare non lo so ah ok eh sì ok ciao ormai ciao insomma no lei pensava che uno potesse risalire prima eh no dopo mi sono accorto anch'io dopo c'è perché c'è però vedi comunque non qualificato no no qualificato perché 6 e 31 minimo devi far 6 e 10 ah minimo è vero perché stavolta va a profondità va a profondità no non c'è qui non c'è più la mano adesso è finito dai perché non sapevo quanto durasse questo gioco e quinto giorno cosa succede quinto giorno dai finale globale ah questa si quello che dai no è vero questa è una figata è tipo quello lì dei kirby guarda lo si buttano quando sei in quella fascia lì devi schiacciare e poi più è preciso più spacchi il muro ma insieme ma stiamo cacciando spero tutti insieme che sarebbe molto vero va che figata la misura è che mentre voliamo dobbiamo smanettare io ho fatto poco guarda adesso c'è le ossa eh io non schifo eh vedi Dario sei rifatto all'ultimo round con la potenza cazzo te l'hai 120 ah ok però non qualificati no no comunque ah porca miseria comunque guarda il world record della qualifica troppo vicino si infatti vabbè forse perché è l'ultimo livello anche poi quello forse nel cabinato è il record fatto dai giocatori veri e propri no questo è quello predefinito c'è la roma in teoria predefinita dopo non so con chi manca vuoi sempre io che non me lo prendo quindi non lo so sinceramente ma qui contanto guarda i commenti e niente rap e quindi outside battersi quelli esterni la barra può andare anche di più ah io me lo prendo ah quella è una barra diventano vedi gialla per lo sapere verde e poi e poi io ho sparato a troppo invece proprio al ground proprio al si anch'io ho fatto un po' prima però comunque è fatto da matti vabbè 89% 89% montesi no 132% montesi ce la fa qualificato anche si qualificato quasi il record mondiale no è vero questo giro è schifo perché conviene più essere meno in guardia un attimino andare dunque la prossima volta cioè il prossimo nel senso se mai ci vorremmo mai giocare anche tra di noi tocca che usiamo questi no si si io ce l'avevo altri due il pandora da usare come controlle prossima volta oh e vediamo che succede vediamo il corp del champion di human athlete ah questa è quella dell'uno ah è vero perché adesso devo battere tu sei il champ ma solo io eh si sei te il vincitore lei è uno dei personaggi dell'uno che si poteva usare infatti il tuo è bello perché c'è tutte le nazioni poi ah nella gara si non sa che io ci avevo giocato fino a qua ah solo corsa no ora batti ma solo io mi dà la skin ufficiale ma da molti ma andate finito io ho vinto oh hai vinto ma ne ho no ho perso eh però primo c'è scritto a te il secondo eh perché è da ah ok si final result quindi va bene non si capisce ma perché io non l'ho vista lei parla quella dell'uno è partita eh mazzo xiao yen che se no è macon è giapponese poi c'ha scritto solo nella versione asia lei è cinese anziché giapponese però io questa è la versione normale vabbè non ci ho capito niente ma forse no voglio dire se c'è qualche video qualche picca qualche video si ma intanto io di solito lascio scorrere ah vabbè c'è le statistiche si vabbè 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 scorrì scorrì puntata avanti vabbè vabbè perché a me mi dice che devo premere start e voi cioè voi siete in gioco cioè adesso io non premo per sicurezza tanto fa vedere ma perché si spera se prena si esatto perché te lo sei perso ah no e ricomincio da capo ma non ci interessa esatto no faccio P e niente questo è la Newman Athletic 2 bellissimo a giocare d'inverno si con questo episodio ho quattro giocatori sono contento siamo riusciti a farlo niente dai non c'è manco i titoli di coda così tanto noi abbiamo fatto tutto quello che è esploso il mondo ormai quindi non c'è più niente e quindi questo è un episodio extra infatti è sabato e andiamo al mare perché dopo il mamma c'è il mare è sempre giusto e buona ci vediamo grazie per chi c'è per chi c'è stato chi ci sarà ci rivediamo alla prossima e potete recuperare come al solito gli episodi indifferita su youtube e buona e ok allora io faccio così e te ciao amici aspetta ciao amici ok ciao ciao